Sì, di Marrastano Sport, eccoci qui, come promesso, post qualifiche, è appena finito il Q3, eccoci qua, in ogni caso bella a tutti ragazzi, eccoci qui finalmente tornati con un nuovissimo video, post qualifiche, dove ragazzi vi spoilero subito qualifiche super emozionanti, queste del GP di Barcellona, torniamo con la voce normale e non come quella, del telecronista della Formula 1, bella a tutti ragazzi, eccoci qui con il post qualifiche, allora vi dico già ragazzi, qualifiche si possono definire buone, ma anche no, perché ragazzi è veramente successa tante cose, sono successe tante cose, partiamo dalla Q1, Andiamo a vederci la qualifica 1, la classifica del Q1, è stata veramente ragazzi molto particolare perché in prima posizione si trova Landon Norris, secondo, Valtteri Bottas, terzo, un buon Charles Leclerc, quarto, Max Verstappen, quinto invece ragazzi, un super Pierre Gasly, sesto invece c'è, Sergio Perez, settimo, Carlo Sainz, ottavo Landstroll, nono, ma non fa niente perché tanto questa per fortuna non è quella che farà la classifica, la griglia di partenza, nono, Lewis Hamilton, decimo invece c'è, C'è Estebano, Daniel Ricciardo, undicesimo Esteban Ocon, dodicesimo Fernando Alonso, tredicesimo invece, Sebastian Vettel, quattordicesimo Russell, ragazzi, sul filo, Giovinazzi, quindicesimo, mentre invece eliminati rispettivamente, sedicesimo, Sunoda, diciassettesimo, Kimi Raikkonen, diciottesimo, Mick Schumacher, e diciannovesimo Latifi e Mazepin, che è meno sei decimi, sei decimi a più o meno da Latifi, che è ventesimo, ragazzi, accettiamolo, fa un po' cagare, diciamoci la verità, Mazepin. Adesso andiamo, ragazzi, a vederci quella del Q2, adesso, ragazzi, c'è Max Verstappen, in prima posizione che, ragazzi, Max Verstappen, ci voglio dedicare un attimo delle parole, perché ha fatto un super, veramente un super Q2. Al primo giro, subito, pole position, che è rimasta. Valtteri Bottas, invece, ragazzi, c'è come secondo, terzo, invece, Lewis Hamilton, quarto, invece, Sainz, quinto, Sergio Perez, sesto, invece, un buon Landon Norris, settimo, Charles Leclerc, che è andato benissimo in queste Q2, ma, ragazzi, siamo in Q2, quindi, casa vote. Ottavo, Danny Ricciardo, non, invece, Esteban Ocon, decimo, Fernando Alorso, sul filo, non viene eliminato, vengono eliminati Stroll, a sorpresa, ragazzi, Gasly, perché pensavo che dopo il quinto posto, mi sembra, avrebbe fatto bene. Tredicesimo, invece, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi è quattordicesimo, mentre, invece, addirittura, meno due secondi e due dalla vetta, c'è George Russell. Andiamo, ragazzi, a vedere la classifica del Q3, intanto, inizio sponsorizzandomi, ragazzi, dicendovi di passare qui sotto in descrizione, anzi, non, qui sotto in descrizione, andate a cercare calcio, oppure vi uscirà il mio primo canale di calcio, Stefano Anche Marrastano, che dovete andare a seguire, ovviamente. Mentre, invece, ragazzi, questa è la Q3, la classifica e recita Lewis Hamilton, che partirà, centesima, pole position, per il Gran Britannico, l'inglese, ragazzi, è di un altro livello, di un altro livello, totalmente. Max Verstappen, secondo, invece, a meno trentasei millesimi da Lewis Hamilton, terzo, invece, Bottas, quarto, invece, Leclerc, che ha fatto, alla fine, buono. Un buon giro, Ocon, invece, quinto, che era partito, veramente, ragazzi, aveva preso la pole, momentaneo, ovviamente, poi si è fatto superare, ma, Ocon, ragazzi, la Renault di Alpine, l'Alpine di Ocon, mamma mia. Mentre, invece, sesto, Danny Ricciardo, ottavo, settimo, invece, Sergio Perez, che, anzi, no, Sainz, ragazzi, scusate, sesto, va bene, dai, diciamo che va bene. Settimo, Danny Ricciardo, ottavo, invece, Sergio Perez, che, ragazzi, addirittura è finito nella ghaia. Grave errore il suo, è finito nella ghaia. Lando Norris, invece, nono, mentre, invece, decimo, recita Fernando Alonso. Poi, a seguire, ragazzi, adesso tutta la classifica completa, i dieci piloti che vi ho appena detto più. L'Astro, l'undicesimo, dodicesimo, Pierre Gasly, tredicesimo, Sebastian Vettel, quattordicesimo, Antonio Giovinazzi, quindicesimo, George Russell, Yuki Tsunoda, a occupare la sedicesima posizione, diciassettesimo, Kimi Raikkonen, diciottesimo, invece, intanto qua mi arriva la notifica, diciottesimo, invece, un buon Mick Schumacher, diciannovesimo, un pessimo la tifica, ormai, ragazzi, proprio non mi piace, il ventesimo, invece, Nikita Mazepin, ragazzi, in ogni caso, io vi invito a iscrivervi al canale, andate su tutti gli altri canali, dopo ci sarà il post gara, probabilmente, di Formula E, e domani, sia post gara di Formula 1, che di Formula A. In ogni caso, ragazzi, io vi saluto, noi ci vediamo con un nuovissimo video, ciao!